Ho scoperto quest'accademia di pasticceria un po' per caso, navigando su internet e su Facebook. Ho apprezzato molto il fatto che prima di accedere ai corsi a pagamento venissero offerte 5 mail con 5 video-lezioni gratuite su varie ricette di pasticceria. Ho aderito quindi a questa iniziativa, ho ricevuto 5 mail con le ricette, una di queste mail tra l'altro conteneva la ricetta dei croissant che sono sempre stati un po' il mio sogno, imparare appunto a realizzarli. E' stata la prima ricetta che ho guardato, mi è sembrata molto semplice, la spiegazione è accompagnata ovviamente dal video, quindi si vede in tempo reale quello che viene spiegato. E quindi mi è piaciuta molto questa proposta iniziale. Ho scelto quindi di aderire al corso, inizialmente avevo optato per le ricette di biscotti e torte di vario genere, perché avevo in mente di aprire una IAD, quindi un'impresa alimentare domestica. Poi io e mio marito insomma insieme ci siamo orientati invece sul corso dei lievitati, che era un mondo a noi ancora sconosciuto e che comunque ci interessava moltissimo. Abbiamo quindi scelto le video lezioni a pagamento sul corso dei lievitati, che sono realizzate in modo molto molto convincente, perché sono ricette che prevedono tra l'altro le dosi sia per chi vuole preparare a casa, sia per i professionisti che invece lavorano in laboratorio. Sono tutte spiegazioni semplici, dove i concetti vengono anche ripetuti proprio per essere compresi bene. In questo corso ho scoperto per la prima volta l'uso del malto, che non conoscevo e che cambia tantissimo la realizzazione di un prodotto lievitato. C'è la possibilità molto utile di commentare e di fare domande, quindi si può pubblicare la foto del dolce che è stato realizzato, chiedendo consigli su come farlo meglio o chiedendo anche un giudizio su come è stato fatto. E poi la possibilità ovviamente di fare tutte le domande che vengono in mente, lo chef risponde in tempi veramente rapidissimi, anche alla sera, anche nel weekend, quindi è proprio sempre a disposizione. Le ricette di queste video lezioni tra l'altro sono a disposizione 24 ore al giorno, tutti i giorni per un anno, quindi si ha la possibilità di guardarle e riguardarle più volte e quindi anche questo è molto utile. La mia decisione di aprire una IAD, quindi un'impresa alimentare domestica, nel giro di pochissimo si è tramutata in una decisione molto più importante che quella di aprire una caffetteria con produzione artigianale di tutti i dolci che ho imparato e che sto imparando a fare. E quindi devo dire che questo corso per me è stato anche una spinta proprio a livello lavorativo, quindi grazie e se vi piace cucinare, se volete accostarvi al mondo dei dolci, fatelo con questo corso che è davvero semplice, utile, interessantissimo e non si finisce mai di imparare.